Ha parlato! Il legno ha parlato! Ci sono favole che non hanno età e ci accompagnano tutta la vita. Pinocchio! 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 Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori! Prima o poi se ne pentiranno! Mi sento troppo mal di pancia! A scuola non capirei nulla! Sto male! Eh? Ci potrei andare anch'io a questo campo di miracoli? Tu? Ma certo! A che tu parti per il paese dei balocchi? Dal creatore di La Gabbianella e il Gatto! Lo prometto! Voglio diventare un burattino a moto! Così poi diventerò un ragazzino per me! Ma che razza di pesce c'è? Non sono un pesce! Sono un burattino! Bene! Un pesce burattino non ne ho mai mangiati! E te! Il nuovo film di Enzo D'Alò! E che ce ne importa a noi? Siamo mica zucchini noi! Lucignolo, cosa... cosa sono quelle orecchie? Buonasera, signor Mangiafoco! Adesso anche i burattini si mettono a fare i loro comodi! Pinocchio, prossimamente al cinema! Yette!